Nini Spoto, presidente dell'associazione di volontariato protezione civile di Nuoro, la settimana scorsa avete avuto una brutta sorpresa, i ladri hanno visitato la vostra sede di Prato Sardo asportando materiale ma soprattutto causando un danno morale per così dire perché voi siete al servizio della comunità sia in caso di incendi boschivi che di alluvioni. Sì certo, il danno che ci hanno fatto è morale ma è anche materiale, il danno è stato fatto a noi ma io credo che il danno maggiore sia stato fatto alla comunità che in questo momento si trova magari scoperta per determinate operazioni che comunque noi siamo sempre disposti a fare. In particolare la lotta antincendi quest'estate senza altro subirà un rallentamento perché le forze che potranno essere disposte in campo da noi saranno senza altro inferiori a quelle degli anni precedenti. Scendendo nel particolare vi hanno sporato una pompa da questo mezzo? Sì praticamente il mezzo che abbiamo qui e che tra l'altro ci è stato dato incomodato d'uso dall'amministrazione provinciale è munito di un gruppo AIB, il gruppo si compone di serbatoio che è un tenente circa 450 litri d'acqua, poi un motore e una pompa aspirante, in questo caso si sono portati via sia il motore che la pompa aspirante. È un gesto moralmente che non trova nessuna giustificazione. Cosa dire? È come sparare sulla croce rossa a questo punto, cioè noi siamo a disposizione di tutti quanti. Il nostro compito è cercare di portare serenità, tranquillità in determinate situazioni di pericolo. Vuoi che sia la lotta agli incendi, sia che sia la lotta all'idrogeologico quando d'inverno c'è da fare interventi di questo tipo o come quest'anno abbiamo fatto la pulizia dalle strade della neve, lo spargimento del sale. Quindi un torto che secondo me non ci meritavamo di subire.